Siamo in compagnia del coach Antonio Paternoster, dopo la sconvitta di Scafati gli chiediamo ma dove è finita quell'Agropoli, schiaccia Lanciano, schiaccia Sansevero? L'Agropoli si è fermata, siamo rimasti nel nostro palazzetto, no a parte la battuta per lui era un test importante, eravamo in esame di maturità, siamo stati rimandati questo è l'esito di questa partita, siamo stati rimandati, avremo la possibilità appunto di riparare detto questo abbiamo il classico peccato di gioventù, nel senso dopo un primo quarto equilibrato ci siamo convinti che bastava poco per rimanere in partita invece Scafati come noi diciamo da inizio anno ha dimostrato tutta la sua forza, tutta la sua compattezza sono venuti fuori i giocatori dal pedigree importante, i giocatori appunto che stanno a giocare molto bene a palaccanestro e quindi giustamente il campo ha detto che ad oggi tra noi e loro ci sono 35 punti quindi sinceramente noi lo sapevamo che Scafati è direi, non dico nettamente, è più forte di noi quindi il risponso della partita di domenica è stato questo però detto questo assolutamente non come ho detto i ragazzi stamattina dobbiamo subito dimenticare questa prestazione, dobbiamo ripartire dalle nostre certezze e dobbiamo lavorare moltissimo perché dobbiamo inserire in squadra ora due ragazzi nuovi due ragazzi su cui noi puntiamo come la società ha dimostrato nel senso saremo ancora una volta tendenzialmente una squadra che giocherà con 5 over e 5 under di questi 5 under ben 4 saranno del 94 e uno solo del 93 quindi cercheremo di dare spazio soprattutto a questi ragazzi appunto under però detto questo dobbiamo lavorare moltissimo, domenica ci aspetta una partita difficile però ti ripeto, le sconfitte a volte servono, a volte fanno capire i propri errori, i propri limiti però noi sui nostri errori, sui nostri limiti dobbiamo lavorare tantissimo non ti ripeto, non è una sconfitta che ci demoralizza forse ecco, l'unica cosa che in parte c'è un po' dispiaciuto è appunto non aver regalato ai nostri numerosissimi tifosi appunto a cui va un nostro sentitissimo applauso una prestazione più tra virgolette competitiva questo ci è un attimino dispiaciuto perché veramente abbiamo apprezzato il fatto che in tantissimi sono venuti a scafate e quindi questo ci fa enormemente piacere e quindi mi sento di dire a loro tutti di tornare chiaramente domenica a sostenerci e quindi di spingerci a trascorrere un felice e sereno Natale attraverso appunto tramite la vittoria mi auguro su Biceglie e quindi di coloro ti ripeto che in un percorso di crescita ci sta una scoppola come quella di domenica scorsa però ti ripeto è stato un esame di maturità dove non siamo stati assolutamente tra adesso bocciati siamo stati rimandati, avremo una seconda prova d'appello nel giorno di ritorno e mi auguro non solo nel giorno di ritorno quindi detto questo è una lezione che ci servirà ci ha fatto capire molte cose ci ha fatto capire che bisogna essere un attimino ancora più convinti perché ci è mancato un po' di convinzione in alcuni tratti detto questo ti ripeto è ormai una sconfitta, fa parte del passato Archiviamo Scafati, sei già al lavoro per Biceglie Sì, siamo già al lavoro per Biceglie Biceglie è una squadra pure ostica viene una sconfitta casalinga quindi vorrà subito riscattarsi questo ce l'ho detto i ragazzi così come Biceglie vorrà riscattare il passo falso interno noi vorremmo e vogliamo e dobbiamo riscattare appunto il meno 35 di Scafati detto questo però Biceglie è una squadra dinamica dove sicuramente l'esperienza di Storchi e Torresi sono appunto le chiocce della squadra intorno a loro però ci sono giovani interessanti hanno sicuramente un buon quintetto, dei buoni cambi riferisco ai vari cancellieri, Drigo e compagnia Chiriatti e tutti gli altri è una squadra che va presa con le molle ama giocare a campo aperto ama pressare per lunghi tratti della partita alternare difese a uomo a zona e quindi non sarà sicuramente una partita semplice però detto questo ora noi vogliamo assolutamente ti ripeto, regalare un'altra gioia ai nostri tifosi e vogliamo concludere quest'anno che per il basket Agropoli è stato sicuramente un anno positivo nel miglior modo possibile e questo non può che non avvenire attraverso una vittoria ti ripeto, sarà una gara difficile però dobbiamo fare di tutto per vincere La ripresa degli allenamenti è ritornato anche il play Renato Buono è tornato però non è ancora come visto non è ancora, non si sta ancora allenando con noi spero da oggi fino a domenica appunto di poterlo non dico recuperare al 100% ma almeno al 50-60% perché il suo contributo è determinante quindi sappiamo che in ogni caso dovrà stringere i denti però consapevole appunto che è un ragazzo che non si tira indietro spero che sia dei nostri anche domenica L'appuntamento è per venerdì con l'intervista per la partita di Bisciglie ringraziamo il coach Antonio Paternostro Grazie Claudio Grazie a tutti